Buonasera a tutti, benvenuti a fuori orario, cosa è va, calano le più luci della notte e si parla di fumetti, in realtà si dovrebbe anche parlare di censura perché sapete che c'è stata un'antisentenza, ho visto alcuni canali, detenere, perché ovviamente io non ho un problema che mi dice, ovviamente per noi lettori di Tex e di Magnus è un problema che ci riguarda molto molto poco, perché i nostri fumetti, questi che un tempo negli anni settanta erano proibiti, sono di una castità oggi assoluta, negli anni settanta appunto la castità di questi fumetti oggi potrebbero essere introdotti tranquillamente in un convento di Orsoline, no, ma c'è stata una sentenza che ha stabilito che la detenzione di materiale e prendo portografico ovviamente è reato, ma tra questi è stato, mi sembra aver capito, che vengono considerate anche gli Entai, che è un tipo di fumetto giapponese erotico, ovviamente questo poi provoca, secondo me non provocherà nulla nel concreto, perché poi alla fine, ma naturalmente l'Eros giapponese molto spesso, basta pensare a Dragon Ball, è ovvio che sono ritratte molto spesso donne, diciamo ragazzine dalle fattezze piuttosto giovani, quindi sì, mentre quelle di cui parliamo noi, per esempio Biancaneve, i fumetti erotici degli anni settanta, ovviamente il modello era la Fennec, che tutto poteva passare, tranne che per minorenne, anche per le forme piuttosto abbondanti del seno, non so, i nostri modelli degli anni settanta, ottanta era Sabrina Salerno, quindi capite, Sabrina Salerno, poi c'era la Fennec, poi c'era, vabbè, Gloria Guida, la più giovanile, la più, ma naturalmente c'era, vabbè, non parliamo, anche la Ferigli, insomma, sono tutti modelli molto mediterranei, non parliamo poi della Sofiona nazionale, Sofialone, una Dea Greca in tutti i sensi, eccetera, ma naturalmente questo ci porta al concetto di censura, oggi parliamo dello sconosciuto, numero 5, in realtà questa collana sta avvolgendo al termine, perché sono le stampe non anastatiche, ma simili all'anastatica della Cosmo, perché poi credo che Vacanza a Zalè sia l'ultimo numero che ho fatto con l'edil fumetto, dove in realtà muore lo sconosciuto, muore, ma poi viene risorto, viene operato e poi continua, continua, verrà operato, eccetera, eccetera, questi sono i numeri dell'edil fumetto, la collana non è da un successo strepitoso, perché dura appunto 6 o 7 numeri, insomma 6 numeri, mi sembra, sì, perché questo è il 5 e il 6 dell'edil Zalè, che è appunto ambientato in Palestina, quindi anche d'attualità, e ovviamente, perché il problema era che fino al 75 c'era una legge che praticamente, siccome questo non è un fumetto erotico, ma naturalmente Magnus metteva delle scene sexy, però, e tra l'altro la prima rappresentazione di un membro maschile nudo fu fatta, una delle prime fu fatta da Magnus nel Larve delle Tre Api, eccetera, eccetera, però non erano questi, cioè, in Magnus come in Lucchino Visconti, non c'è l'idea, cioè, se uno guarda la caduta degli dèi, e c'è una scena d'incesto tra il figlio e la mamma, la scena molto forte, ma non era quel senso di Lucchino Visconti, non era certo quello di fare un film pornografico, il decadimento morale del nazismo veniva semplificato quasi come una tragedia greca, ammazza quanto soccolto e preparato, a volte mi stupisco la mia preparazione ascoltata, e ovviamente serviva il degrado morale, sì, e vinceva anche dal degrado fisico della famiglia, che era da famiglia, diciamo, di sani principi capitalisti, vabbè, Lucchino Visconti era nobile, ma comunista, le contraddizioni della vita sono infinite, anche nelle persone, però certamente di sinistra, quindi da una famiglia di ricchi industriali che poi rappresentava il gruppo, e poi piano piano la famiglia si disgrega in un abisso morale, tipo gli atridi di Eschiliana e Euripidea, a memoria, che ora non facciamo la tragedia degli atridi, perché sennò torniamo alla guerra di Troia, e poi direbbero che partiamo a bobo, però, ritorniamo sempre, questo poi disincentivava, e gli dicono anche a prendersi carico di questi fumetti, perché non erano fumetti erotici, però, cioè, qualcosa ci capitava dentro, vuol dire, una scena di sesso c'era, perché non che il fumetto fosse, c'è la differenza tra un fumetto, un'opera erotica, nel senso pornografica, e che lo scopo è solo uno, nel senso il fumetto, il cine, l'opera cinematografica, ha solo scopo di rappresentare nudi maschili e femminili in atti di accoppiamenti, eccetera, mentre l'opera artistica, naturalmente ci può essere, le due si innamorano, stanno su un prato e fanno roba, noi che leggiamo Tex non sappiamo niente di questo, non ho visto niente di Tex, Tex incontra Lilith, ciao Lilith, e un mese dopo, e nove mesi dopo è andato Kit, come è andato Kit? Come è stato adesso? Non ho perso dei passaggi. Mentre Dago, di cui parleremo domani, da Dago è più esplice, però è ovvio che questo, il comune senso del pudore è un argomento che forse ci farò un video, ma naturalmente ne accendiamo qui, vi consiglio questo commento, perché in realtà Barsi non so se profeticamente ha affrontato il tema della censura, è ovvio che negli anni settanta, in realtà non c'entra molto, cioè Barsi poi come me divaga, nel senso dell'arrivo delle riviste pornografiche, oggi non esistono più, perché con YouPorn, cosa vuoi andare a comprare riviste pornografiche, però si è passati, il fatto che a un certo punto i fumetti sexy, come Biancaneve, siano spariti, perché lì non si vedeva nulla, era solo, si vedeva su due chiappette, ciappette, un seno prosperoso, quindi, e sono stati soppiantati, prima dalle riviste fotografiche, pornografiche, molto più spinte di Playboy, eccetera, dove si vedevano solo dei nudi femminili, e poi ovviamente dal cinema, Moana Pozzi, eccetera, eccetera, la storia dei film, dell'erotismo in Italia, sarebbe una storia da farsi. naturalmente ci portiamo sempre il problema, che è forse fondamentale, antropologicamente, perché la rappresentazione dell'atto sessuale, che è naturalissimo, è proibita, e questo ci dovrebbe porre un sacco di problemi, tra l'altro, Barsi fa notare, molto ironicamente, che Magnus, nei suoi fumetti, è uno dei pochi che fa vedere, una scena non erotica, ma che di soli fumetti e nei film, non si vede mai, vediamo Magnus autoritratto in bagno, mentre sta facendo le sue cosine, e naturalmente, perché ci sono alcuni atti, che sono, sono dei tabù, nel senso che tutti non andiamo in bagno, una volta al giorno, ma voi non l'avrete mai visto, come dice giustamente Barsi, Tex in bagno, non l'abbiamo mai visto, in 75 anni, e il fatto che tutto questo, ci riporta al lato fisico del nostro corpo, il nostro corpo, è una macchina fisica, quindi ingurgita cibo, e poi le espelle, il fatto che per noi, qui ritorneremo a un film di Buñuel, fascino scritto a burguesia, dove appunto si rovesciava questa cosa, in cui si vede un gruppo appunto di persone, che sono a tavola, e non stanno mangiando, e stanno parlando, però si vedono solo a mezzo busto, come me, a un certo punto, uno si alza, e dice posso andare in bagno, vai in bagno, apre uno sportellino, e si mangia un panino, allora lì hai l'illuminazione, di quello che stavano facendo intorno al tavolo, la provocazione di Buñuel serviva proprio a questo, perché l'atto di mangiare, o di defecare, è esattamente naturale, cioè forse è più orribile, ingurgitare roba, che io prendo una pera, e prendo questo oggetto, e lo ingurgito, è un atto orribile, se non ci pensa, molto più orribile, che espellere, i rifiuti della pera, lavorati dal mio corpo, tutto questo ci porta, in abissi, che ora, antropologicamente, sarebbe interessante affrontare, per cui, la sessualità, è sempre stata, e comunque, qualcosa, che deve essere represso, contro il lato, anche e soprattutto, quando viene, esplicitamente esibita, come nei video di TikTok, eccetera, e qui, in magno, si sente tutto questo in magno, perché qui, ovviamente, la sessualità, più che la sessualità, sono scene splatter, siamo ad Haiti, allora, dicevo, e ci ricolleghiamo, anche con, 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 Ugo Pratt, perché, ci sono alcuni elementi, che ci ricollegano, la, alcuni avventori, di Corto Maltese, sono ad Haiti, arriva lo sconosciuto, non si sa bene dove, una casa, dove si pratica, qui si vede il presidente di Haiti, non mi ricordo chi era, in quegli anni, si pratica un rito voodoo, e questo rito voodoo, Magnus lo descrive, alla perfezione, nel senso, si ha un po', la strana impressione, che Magnus li abbia visti, davvero, perché, naturalmente, i riti voodoo, qui la censura, si beve, si sgossa una galla, un galletto, eccetera, eccetera, si beve il sangue di gallina, si usano teschi, ossa di morto, il voodoo, è una sorta di incrocio, tra cattolicesimo, e riti ancestrali, degli schiavi portati, dall'Africa in America, quanto so, ma, aspettavo, aspettavo, perché, ovviamente, la protagonista, di colore, vuole recuperare, l'amore, eccetera, eccetera, si trova Magnus, che, si anticipa, l'ultimo numero, un personaggio, ovviamente, i disegni Magnus, dicevo, sono molto caricati, molto, grotteschi, e se prendiamo, scusate, vi faccio vedere, questo è il Magnus, dello sconosciuto, e prendiamo il Magnus, del, di Satanic, vedete che sono due mondi, completamente, diversi, questo è il Burra, di Magnus, e questo è il Magnus, dopo la rottura, con, naturalmente, qualcosa c'è sempre, però, naturalmente, io dirò, quello che ho detto, mi fa piacere, che ieri ho detto una cosa, e mi aspettavo, di essere mangiato vivo, nei commenti, che, ovviamente, a me Villa, non è che mi fa impazzire, ne riconosco l'abilità grafica, ma non è il mio ideale, quindi, dirò una cosa, che secondo me, il Magnus migliore, non è quello dello sconosciuto, cioè, la zanzi ricerca, il realismo, però, questi presvolti, non sono propriamente realisti, sono, a parte, il forte uso di fotografie, ovviamente, sono volti, molto caricaturali, che, però, creano, a me, un senso di, cioè, quando mangi qualcosa di troppo dolce, o di troppo salato, dopo un po', creano un senso di, di rigetto, a me mi creano un po' di rigetto, ne ammiro la grandezza di Magnus, però, non c'è, io credo che ognuno di noi, Magnus come Okusai, abbia le varie fasi, quindi, non è che tutte le fasi ci possono piacere, è come se avere, Magnus, erano lo stesso autore, diversi disegnatori, mentre, nell'ultima parte della sua vita, con Necron e il Texone, se ci riguardate il Texone, i volti del Texone, torneranno a una purezza di linee, più simile a questa, il volto di Tex, ovviamente, è molto più vicino, ai volti, una sorta di eterno ritorno, ovviamente, su Magnus, potremmo aprire, dei dibattiti, delle tavole rotonde, che qui, e invece, questa parte di Magnus qui, non è quella che mi fa impazzire, nel senso, questi volti, soprattutto le persone di colori, sono troppo caricate, sono volte grotteschi, non lo so, in questo inseguimento del realismo, a tutti i costi, secondo me, non è il miglior Magnus, poi, d'uso molto dei retini, che si trovano qui, quindi, se lo sconosciuto, non ha avuto poi quel successo, che si meritava, però, ci sono delle ragioni, anche questo tipo di disegno, non è quello che ci, cioè, per esempio, paragonandolo, ovviamente, con una storia simile, come Corto Martese, eccetera, eccetera, da Iti, insomma, anche lì, c'è una storia di Corto Martese, da Iti, con i morti, gli zomboli, gli zombie, però, questi volti, soprattutto questa donna di colore, è un volto, che non mi piace, che non mi piace più di tanto, mentre lo sconosciuto, qui ritrova alcune tratti, caratteristiche di crime, e qui, mi piace, nel senso che, è un tipo di, naturalmente, qui c'è una scena sexy, dove, appunto, è una scena, una storia, ovviamente, la sorella, il marito è stato rapito, ma in realtà, se la sta, se la sta spassando, con la sorella della moglie, quindi, è una scena, 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 però, naturalmente, questo crea, un triangolo, no, non l'avevo, non l'ascoltavo, non l'ascoltavo, l'ascoltavo, non solo, ma è stato un sorcino, insomma, l'ascoltavo, il car, siamo nel langro dei ricordi, ma pensate, c'è gente che leggi i manga, e noi siamo ancora, a parlare di sta roba, ma, e quindi, ci sono, ovviamente, le scene sexy, ma, che hanno, una strategia, in realtà, in queste scene, tra l'altro la sessualità qui sono molto più che sexy splatter nel senso ovviamente sangue e budella a profusione ovviamente cadaveri che ambulano ambulano molto bravo magnus nella descrizione delle armi le armi sono un'ossessione di magnus detto in numerosi video quindi la ricostruzione delle armi è perfetta l'elicottero gli vengono meglio di cui di come disegnava al tempo di satanic e magnus sono meglio fino a certo punto nella popolosa passione mentre è quindi una storia ovviamente molto cruda molto violenta molto disperata e credo che questo sia uno dei motivi per cui non ha avuto successo perché magnus in queste storie non c'è una speranza che lo sconosciuto scopriamo che mentre era una regione straniera era un torturatore quindi però l'idea non è sviluppato c'è il bene e il male naturalmente in queste storie sono abilmente mischiate abilmente no ecco questo è il problema nel senso che lo sconosciuto ha un po sì steve mcqueen marlon brando ricorda molto quei film lì insomma a fronte del porto steve mcqueen voglio una vita spiriolata però non c'è sebbene io ho di tutto di magnus però lo sconosciuto non è una saga che ho poi amato fino alla follia ecco non dirò forse un'eresia che nel senso che è ovvio che da dennis cobbola non so è ovvio scusate però da dennis cobb a qui è passata tanta tant'altro sotto i ponti naturalmente dennis cobb che di magnus è un disegno quasi abbozzato quasi giovanile insomma e lo sconosciuto è una sorta di caricato cioè di mostruoso dennis cobb che si è c'è la scoperta che è ovviamente i 007 quelli con shaw kondali non esistono sono solo delle fantasie ma rientreremo un discorso che non sarebbe molto interessante antropologicamente stabilire cos'è il vero e il falso e quindi crea un personaggio che altre però è altrettanto falso anche lo sconosciuto di dennis cobb ecco vorrei dire questo non è più vero è più realistico nel senso di come noi ci immaginiamo il realismo è un personaggio altrettanto irrealisti e reali di dennis cobb per altri motivi totalmente opposti ma due cose possono essere false per motivi totalmente opposti ma questo è un altro discorso quindi io amo molto anche queste storie molto cubo vedi ci sono questi personaggi vabbè riti voodoo riti eccetera ma cumbo è il momento insomma dove magnus è più attirato dalla magia nera nel senso di alcune storie sono molto collegate alla magia nera poi magnus era uno che galoppava per vari sentieri di magia di filosofia orientale eccetera eccetera e la parte finale vi consiglio di barsi perché fa tutta una riflessione a parte le fotografie di magnus che qui ovviamente ripropone l'epoca dello sconosciuto molte delle figure sono riprese c'è il bombi che era il suo amico del cuore questo era un'oste di di bologna era il raffi che poi roffi che era poi l'oste di bologna che poi naturalmente che bombi questo quando lo sconosciuto risorge ovviamente si mette dei personaggi veri cioè lui ovviamente il magnus amava che poi questo l'aveva imparato da mass bunker cioè quando mass bunker e magnus si metteva in alan forno facevano le scenette ovvio che mette tante persone della bologna negli anni settanta sono in questi fumetti soprattutto il bombi il bombi di abbiamo parlato quindi carter poi un po abbandonato di carter poi è finito però anche sul bombi ricordano molto le cronache del dopo bomba del bombi ecco sono storie molto crude c'è qualcosa che ricorda il dopo c'è il bombi dopo le stuntruppe dopo le struntruppe ora io penso aver detto tutto l'inutile di questo mondo quindi non credo andrò molto più avanti in questo video naturalmente la storia è le storie comunque reggono a distanza di tanti anni quindi si possono leggere tranquillamente hanno soprattutto la prossima che riguarda la palestria forse se questa sera non è la storia che preferisco di questa serie amo alla follia largo dei tre api mi piace molto dell'ambientazione a Roma mi piace molto l'ambientazione in israele questa da iti un po' non lo so un po' di storia che vabbè si affronta che poi ritornerà all'ambientazione di cigevara l'uomo che uccise cigevara non è neanche quella una storia si ne ammiro la bellezza eccetera però il disegno però nell'uomo che uccise cigevara è molto migliore mi ricorda anche il countdown che forse fu fatto in questo periodo la morte di Socrate in poche tavole ricorda anche un po' l'Urdi di Scorpion se un po' quei cototoni molto grevi pesanti e qui il disegno è molto scuro molto e poi posso dire una cosa pur volendo bene a Magnus le fattezze degli uomini di colore non gli vengono bene una storia dove acquistano un sapore molto ricorda cioè qui già mi viene un numero di Necron dove c'era una storia di necrona non era il suo forte ecco di disegnare persone di colore perché tendeva sempre il tratto a essere un po' troppo caricaturale oggi diremo razzista non è volontario però nel voler rappresentare una persona di colore eccedeva troppo ho citato appunto Harry Bellafonte al posto e Sidney Poitier ma se avete visto Harry Bellafonte e Sidney Poitier insomma non è che siano cioè diciamo Harry Bellafonte cioè capite Harry Bellafonte non sono fatte così le persone di colore ecco voglio dire ho trovato Harry Bellafonte vecchio voglio dire immagini da giovane Harry Bellafonte era cioè questo e tra questo e come disegna di persone come Magnus è insomma c'è un po' troppo cioè le labbra sono troppo grosse insomma non è che voglio fare però si capisce che che nel senso nel voler essere nel suo pensiero di Magnus di essere troppo realistico andava verso la caricatura dove in realtà la caricatura non ci dovrebbe essere come mi dicono molto spesso io sono un africano bianco mi trovo i po' comprami a modo di dire però con me non ci sbagliano tutti tanto io ho dei tratti africani ad esempio le unghie bianche non sono tratti molto occidentali direttamente siriani o africani capelli ricci e crespi vabbè che vi devo dire io vi lascio da qui con i nostri pensieri insomma naturalmente questa serie va presa perché naturalmente va presa perché va presa perché va presa perché rispetto a sta roba qui qualitativamente è un'altra cosa poi costa qualche anno 90 quindi un prezzo vabbè come un Bonelli cioè la cosa le cose non te le dà gratis però e poi anche le postfazioni di Bazzi sono molto su tutta la storia della censura ci sarebbe da fare un video apposta sulla censura la rappresentazione della sessualità eccetera eccetera il tabù ecco perché poi le di il fumetto cioè in realtà è molto ipocrita la cosa chiudo questo nel senso se non ci fosse il tabù sulla rappresentazione della sessualità non ci sarebbero le riviste pornografiche insomma le due cose sono collegate cioè la proibizione io vi dico sono casto come una monaca io potrei veramente una perché nella mia mente essendo avuto un'educazione anche cattolico quando ero cattolico molto più cattolico ovviamente erano ossessionati dal peccato però a un certo punto col buddismo ho capito che che tutto è uguale cioè che un uomo che sta in un bacio è sempre l'uomo e l'uomo non noi tendiamo a alcuni lati del nostro essere uomini essere animali a nasconderli di certe cose non ne parliamo se non esce di certo tranne che nel comico allora si vediamo lino banfi allora le rumori di corporale nel lato comico questa cosa deve essere esorcizzata con il corpo cioè non riusciamo ad accettare certe cose nel nostro corpo che sono assolutamente naturali cioè quando sei morto non fai più puzzette non vai più in bagno non produci più escrementi sei morto sei come un sasso se riflettete su questa cosa la cosa diventa quando andate in bagno dite beh vado in bagno sono vivo ma invece no noi abbiamo l'ossessione se anche su e quindi la sessualità è un tabù è un tabù primitivo quindi noi siamo in realtà degli uomini molto primitivi quando si parla di patriarcato io non ci credo nel patriarcato credo in qualche altra cosa che è peggio il patriarcato è un sistema se un video barbasofia ti va la bibbia la bibbia nel mondo biblico un patriarca aveva 4 o 5 mogli e 60 concubine come nel mondo islamico ma un'altra cosa è super patriarcato quello però non è quello noi discendiamo del patriarcato latino che è un'altra cosa io non credo che sia quello non credo che sia quello il problema del patriarcato è questi lati primitivi che non sono il patriarcato ma questi tabù che ci ossessionano quindi se noi vivessimo un rapporto più sereno con la nostra anche sessualità con la nostra corporalità quando sei in casero e chi ha vissuto in caserma o anche in collegio o in casa famiglia sa che se vivi con 10-15 persone in un ambiente ristretto e prima o poi ti vedono da bambini noi facevamo la gara a chi faceva la pipì e noi non accettiamo di essere degli animali non l'accettiamo e dovremmo accettarlo perché non l'accetto? perché noi non accettiamo di essere in parte simili a cani e gatti no, noi siamo esseri superiori noi non andiamo in banca noi non facciamo niente non facciamo le puzzette non facciamo la pipì non facciamo la caccia non facciamo sesso non facciamo niente stiamo tutto il giorno a leggere i libri di Platone e allora che succede? il dottor Jackie è il mister I capite dove nasce il mister I perché se tu reprimi questa parte qui a un certo punto esplode se tu dici vabbè io vado in bagno chi se ne frega dice vado no vado a cagare vedete che io mi rimane ma non perché perché ovviamente allora sembra una parola tutta una cosa di una naturalezza estrema noi abbiamo questi tabù che ci fanno vivere male e quindi nascono le viste pornografici nasce il YouPorn nasce quello che voi chiamate il patriarcato non è il patriarcato un'altra cosa dottor Jackie il mister I ma perché noi non accettiamo di vivere tra l'altro e questo si riflette nei fumetti quindi Magnus non è un autore che fa dei fumetti pornografici ma è un autore che nella rappresentazione della vita c'è la sessualità c'è anche l'andare in bagno e tutte queste cose qui quindi questo Magnus l'ha capito alla perfezione e ce l'ha dato conto perché quando c'è la differenza tra lo sconosciuto e Tex qual è? che Tex non va in bagno vai in bagno perché immaginate Tex in bagno vi si smonta all'eroe quando ero molto piccolo a sei anni mi divertiva a pensare il Papa il Papa in bagno e dirò sono ancora più blasfemo pensavo che quando mi diceva vabbè Gesù Cristo si è fatto uomo e mi diceva andava in bagno se si è fatto uomo però se dicevi questa cosa mi inseguito nelle suone però è ovvio che sono andati in bagno Gesù no? eppure è un pensiero che molte persone sono scioccate se si è fatto uomo proprio Gesù si è fatto uomo accettate anche quella parte lì non è che ha detto no ma io in bagno non ci vado non lo sapeva Gesù da Dio essendo Dio un Dio e capite perché i greci non hanno potuto accettare Gesù come Dio perché non puoi accettare un Dio che va in bagno è un discorso molto complicato la bozzo qui perché ci potremmo stare degli anni quindi però vi consiglio lo sconosciuto naturalmente io sono andato divagando come Enrico Ghezzi sapete fuori orario because the night belong to love mi piacerebbe cantarvela in maniera più decente ma la posso solo fare intuire perché the night avevo tutte le cassette lì avevo tutte le cassette e i dischi di Patti Smith le sapeva a me ma queste canzoni abbiamo fatto un omaggio a Ghezzi e va bene con questo passi